La principessa Kate Middleton è finalmente riapparsa in pubblico dopo mesi. Ma adesso spunta in retroscena su William I sudditi inglesi e il mondo intero hanno potuto vedere la principessa del Galles di nuovo in pubblico durante l'evento Trooping at the Colors Visibilmente provata, molto dimagrita. Kate con la sua presenza all'evento ha voluto comunque dare un segnale positivo in merito alle sue condizioni di salute, dopo la diagnosi di cancro Ma adesso arriva una nuova indiscrezione in merito alla principessa del Galles Pare infatti che Kate debba affrontare non solo la terribile malattia ma anche una profonda crisi con William Nuovi guai per Kate. Ancora indiscrezioni sul presunto tradimento di William Durante questi ultimi mesi, dopo la diagnosi di cancro, tutti i tabloid britannici hanno rispettato la privacy dei principi del Galles. Ma adesso viene a galla un retroscena preoccupante Già nel 2019 si vociferava di una relazione clandestina di William con un'amica della coppia, una certa Rose Ambury, nobildonna britannica anche lei sposata Sempre secondo le indiscrezioni, questa relazione durò poco. Con William che tornò da Kate e le chiese perdono Poi è arrivata la diagnosi di cancro, con il principe del Galles deciso a prendersi cura della sua consorte in ogni modo possibile Di recente, però, secondo altri rumors la realtà sarebbe molto diversa L'indiscrezione è di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che durante il programma Mattino 5 ha affermato che tra William e Kate è crisi profonda E proprio a causa di Rose Fonti vicine alla famiglia reale avrebbero svelato che in realtà William ha partecipato a molte feste, ricevimenti ed eventi, con Rose sempre presente, mentre Kate era a casa malata Sempre fonti vicine alla famiglia reale dicono che Kate dovrà sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico entro la fine dell'anno, e che sicuramente avrà bisogno ancora di molte cure prima di tornare completamente in forma La principessa del Galles di recente ha parlato del suo stato di salute ammettendo di non essere, ancora fuori pericolo, e che la terapia durerà altri mesi Ma ad estare molta curiosità e parecchie illazioni è stato anche l'atteggiamento della regina Camilla, che di recente si è fatta immortalare in compagnia proprio di Rose Ambury Secondo Signoretti sembra ci sia un, complotto, in atto ai danni di Kate In fondo Camilla sa benissimo come si interpreta il ruolo di amante, e che le sue scelte alla fine l'hanno portata all'incoronazione In fondo Camilla sa benissimo come si interpreta il ruolo di amante, e che le sue scelte alla fine l'ho